Il ciclo turismo a Muggia è già una realtà, sorta in maniera spontanea per l'attrattiva della prima città dell'Istria costiera e il potenziale proseguio verso la frequentatissima Parenzana. Il comune punta ora a consolidarla, trasformandola in un volano per il turismo con l'obiettivo di far fermare gli amanti delle due ruote nei locali e nei negozi della cittadina rivierasca. Ed ecco il Biciplani, il piano della mobilità ciclabile. Primo obiettivo, passare dalla rete ciclabile esistente a una pista ciclopedonale omogenea e unica sulla costa, eliminando imbuti e colli di bottiglia e raccordando l'esistente. Da Aquilinia all'attraversamento del rio Ospo, per cui si prevedono due possibilità, allargamento della carreggiata o ponte ciclabile parallelo, come da Slide. Dunque l'ingresso in città da Via Trieste, il passaggio nel Mandracchio, che stando al sindaco Polidori diventerà solo ciclabile e pedonale, una volta effettuato il raddoppio della galleria. Dunque il progetto di ampliamento della carreggiata da Porto San Rocco al Molotì, anche qui con fondi della regione, e il perfezionamento del tratto stradale fino ai confini di Lazzaretto. L'obiettivo di far passare il cicloturismo per Muggia, ma dando strutture ovviamente, quindi viabilità, ma anche strutture di accoglienza, di ristoro e tutto quello che è legato a questo mondo, dovrà essere il fulcro dell'attenzione della nostra amministrazione nei prossimi anni. La futura offerta nel territorio conterebbe su 50 km tra piste ciclabili e percorsi ciclistici, da non dimenticare quelli verso monte e quelli invece mirati ai mugisani per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro. Allora, nel piano sono previsti vari passaggi, tra cui molto vincolanti, come la piazza Marconi, raggiungere tutta la parte costiera, creando anche un cicloturismo che si possa sviluppare anche per quelle che sono le zone scolastiche e spostamento anche verso le zone industriali per i lavoratori, rendendo il piano univoco per tutta il Comune. Il piano passa ora al vaglio dei cittadini, prima di approdare in Consiglio Comunale, con 45 giorni di tempo per consentire ai mugisani di esprimere le proprie opinioni in merito. È possibile farlo tramite un apposito questionario anonimo visibile sul sito del Comune o tramite una segnalazione via PEC all'ufficio protocollo.